Il tempo che trova di Pierluigi Lanfranchi, edito nella collana Fuochi diretta da Ottavio Rossani per i quaderni del Bardo Edizioni, è un libro surreale eppure tremendamente reale. È il tempo che trova l'uomo, la donna, i figli, la vita, le cose, la storia, i miti che dalla loro lontananza illuminano il presente, il futuro, il passare della vita. In questo libro, storie raccontate in versi o in prosa poetica, potente suggestione all'incontro con Broschi in un viaggio onirico, con una lingua esatta, evocativa, entrano irrimediabilmente in tutti i sogni possibili. L'oniricità del pensiero cosparge spesso i momenti esperienziari, il tempo passa, il tempo si ferma, salta anche la relatività.